Come stavo dicendo avete setup stop loss domande cose da mandare ragazzi questa vi ricordo che è una live gratuita aperta a tutti sul gruppo telegram che potete sfruttare quindi oltre alla market review che facciamo insieme che abbiamo fatto settimana scorsa se non sbaglio Adesso c'è da aggiungere anche quest'altra quindi tutto quello che ha a che fare con il gratuito di valore che viene dato io vi invito a sfruttarlo al meglio Poi state connessi fino alla fine perché vi do qualche altro incipit per quello che sarà il giveaway di mese prossimo che lì sarà molto molto interessante Molto molto interessante ora già qua ho altri due setup che ho preso ok che dovevo darci un occhio mi era stato chiesto di darci un occhio quindi ci abbiamo qua e poi ci abbiamo anche questi altri due Non sentitevi perché questa è una di quelle cose che magari le persone possono dire ho paura di condividere setup perché ho paura di essere giudicato dall'altra persona come se fossi a scuola e in classe Ragazzi vi ricordo sempre che adesso non abbiamo più a che fare con la scuola dove tutto è basato sui voti e se fai bene a scuola e prendi il bel voto sei contento e felice e completato la tua la tua tasca Qua si tratta di avere a che fare con la vita e col mondo reale e quindi tutto quello che riguarda il sfruttare cose che ti possono avvicinare nel raggiungere i tuoi obiettivi deve essere a mio avviso sfruttato al massimo Ok quindi detto questo andiamo a vedere un attimo qui cosa cosa avevamo allora Riana ci manda questo questo tentato long su 15 minuti su sterlina dollaro dove praticamente va visto Aveva segnato questo qua come ipotetico cambio della dominance partenza realista da parte del mercato e poi qua l'è stato bucato tutto immediatamente Ok perché aveva preso in considerazione questa zona qui allora cosa importante da notare che vi ricordo e che ci tengo a soffermarvi su questa cosa qua Che tra l'altro nella community privata poi siamo andati a approfondire molto bene questi questi dettagli Cosa succede che qua dentro questa che è stata assegnata come liquidità io per quanto riguarda la liquidità che devo andare a valutare non prendo questa che poi viene sbilanciata dalla candela istituzionale personalmente Ok quindi una cosa di questo tipo quello che prediligo di andare a prendere in considerazione perché so che comunque mi dà più vantaggio È il vedere che il mercato mi va a creare della liquidità dinamica ma che fallisce nella creazione di un minimo più basso No che mi va a creare un minimo più basso rispetto a quello precedente così sono più propenso ad andare a prendere poi in considerazione la candela istituzionale Quindi questo poi è da comunque appuntare e tenere ben presente Per quello che invece riguarda quello che è successo dopo se guardiamo attentamente qui dentro cos'è che hanno combinato Sono andati a prendere tutta la liquidità che hanno lasciato su questo livello e tra l'altro con questo movimento qui hanno creato un massimo più alto E come dico sempre io vado a considerare la rottura anche semplicemente con la wick e quindi dato che qua dentro hanno creato un massimo più alto rispetto a quello precedente Che se vediamo anche questo piccolo dettaglio qui dentro notiamo che il mercato quindi da qui sappiamo che c'è la palla in mano Da qui che comanda perché è creato appunto il massimo più alto e guardando attentamente quest'altro livello vediamo che il prezzo da qui va a fare la rottura Quindi dopo aver dato un temporary su questa zona qua di ripartenza di missione comunque non c'è stata spinta sufficiente da parte del mercato a andare al su Perché anche qui uno poteva dire guarda io aspetto dato che mi ha fatto un'altra rottura Qua vediamo questo livello qui perfetto liquidità sbilanciata posso andare a valutare un long su questo 50% di candele istituzionale Che ha dato comunque il temporary quindi c'era una possibilità di andare a sfruttare solo che poi giustamente è andato a rompere Quindi andando già a rompere non riuscendo a creare un massimo più alto già questo è un indizio e poi ci ha dato la conferma che il mercato si vuole rigirare E quindi da evitare poi eventuali long con la rottura di coloro che hanno creato l'ultimo massimo Infatti da qui poi si sono andati a sciogliere sempre di più Quindi cosa super super importante da tenere a mente è ricordarsi di seguire la struttura e la narrativa Perché se veniamo qui attentamente qua coloro che avevano creato l'ultimo massimo sono stati superati E dove c'era anche un'ultima opportunità comunque il mercato è fallito nel riuscire a concretizzarla Ok quindi questo c'è È chiaro per tutti ragazzi datemi un check in chat per voi che siete presenti sfruttate queste cose qua E se c'è quella cosa che non avete capito scrivetemelo pure Però se è tutto chiaro mettetemi un uno in chat Così possiamo andare avanti perché sono troppo importanti eh Fidatevi queste cose qua sono troppo troppo importanti Ok e se c'è anche da parte vostra un feedback poi per me è più facile capire che insomma il lavoro che sto facendo è operativo e fatto bene Ok quindi ottimo Grazie per la collaborazione Ora andiamo avanti con quest'altro Quest'altro qua che è sempre su sterlina dollaro Anche questo ti ha dato il tempo Ok ok Allora se andiamo a vedere qua dentro Allora ti sei segnata zona di liquidità e questa va benissimo Zona di candela istituzionale che ti sbilancia la liquidità E dopo qui ti sei segnata il cambio della struttura quindi la rottura Perfetto Hai fatto bene Cosa succede che qua dentro ovviamente il mercato veniva da una direzionalità intanto ribassista Questo è molto importante Quello che consiglio ovviamente è di seguire la direzionalità Ovviamente qua ragazzi sapete bene che non sono consigli finanziari Sono soltanto qui a fare live a scopo didattico informativo E qui dopo che ha fatto la rottura Il mercato è andato a fare di nuovo questa roba qua Quindi creare liquidità che ha sbilanciato una volta e dopo ha sbilanciato un'altra volta E andando a creare questo massimo più alto rispetto a quello precedente Succede che qui dentro sulla nostra zona di possibile interesse Che se poi si scende il time frame qua c'è una candela sell Il mercato è andato a dare una reazione e un temporary profit Solo che qui non hanno combinato Cioè non sono riusciti poi Perché non hanno avuto sufficiente forza E punti a cui bisogna prestare molta attenzione Infatti qua adesso vi droppo un po' di cose interessanti A cui bisogna prestare tanta tanta attenzione È che siccome qua dentro Avevamo questo come punto di interesse Ok questo minimo qui Vediamo che il mercato cos'è che fa Ci dà un temporary profit Dando il temporary profit Cosa combinano? Vanno poi a Sbilanciare tutta la liquidità dinamica che avevano lasciato qua dentro E guardando ancora più attentamente Qui c'è una cosa che per chi è della community e studiato con me Vi invito a Osservare Ok Aspetta che facciamo così Qua dentro raga Cosa è successo? E mettetemi un Uno in chat Se per coloro che comunque seguono e studiano con me Hanno capito Cosa è successo là dentro Aspetta che Facciamo così Sì Esatto Avevamo quello E cos'è che c'era anche in aggiunta? Oltre a quella cos'è che c'era un insieme di cose che Allineate poi ti permettono Sì Esatto Che ti permettono di dare anche Esatto Esatto Ci siamo Più cose messe insieme Allineate Ti permettono di avere più vantaggio Statistico Ok Quindi qua dentro dopo che il mercato è andato a sbilanciare tutta la liquidità Esatto Liquidità sbilanciata Mercato che qua va a sbilanciare tutto Prende testa la zona e continua A Seguire L'emissione L'emissione che va a rompere È questa qua che il mercato poi dà subito il test Però qua sopra c'era un'altra cosa Ok C'era L'emissione che rompe Ok Quindi qua dentro andando a seguire poi la direzionalità Vanno a fare una ridistribuzione Alla fine Ok Altra liquidità sul livello Schematica Test Quindi sapendo che comunque sei contro O te la vanno a testare subito una situazione come questa Oppure lasci stare Perché Se C'è sempre stato insegnato cosa Da quando abbiamo iniziato a fare trading Vai a favore di trend Segui il flusso del mercato Quindi Se noi andiamo a seguire il flusso del mercato Abbiamo una più alta probabilità di andare a fare il profitto Circa Il 70% Almeno Ok Cosa succede che però Se noi andiamo a Andare con Cioè cerchiamo di andare contro questa Legge Alla fine Rischiamo di farci male Quindi guardando quella che è la struttura macro Notiamo che qui Stiamo andando a ribasso E andando a ribasso E magari Venendo da una direzionalità ribassista È più facile che il mercato Poi te ne vado a fare un'altra Per continuazione Perché poi qua c'è anche un'altra cosa Che si aggiunge Che poi tra l'altro settimana prossima Nella community privata Andiamo a studiare E implementare E che è molto molto importante Che ti dà ancora più vantaggio statistico Ok E Per quanto riguarda questa zona qui Il mercato è andato a fare la sua schematica Continuare E questi livelli che sono molto interessanti Molto golosi Guardando attentamente anche questi piccoli dettagli Il mercato ci ha dato Cosa Su questa zona ha dato Un temporary profit Però dopo che dà un temporary profit Di questo tipo Se guardiamo Attentamente Rifiuto Partono Testano di nuovo questa zona E vanno a creare questa rottura di struttura Visto questo Cioè almeno io a livello personale Com'è che mi muovo? Ah o accorcio lo stop loss Quindi da questo minimo lo vado a mettere qua sotto Oppure metto a break even Capite Questo per me è molto importante Allora Potrebbe sembrare anche un trend ribastista Sul macro Sì Assolutamente Con la statistica Qual è il senso di Allora Cioè alla fine Quando vai a stop loss Analizzi e rispetti le stesse regole Quando vai a take profit Però ci sono delle situazioni Dove Quando prendi stop loss Non capisci Perché hai preso stop loss E ogni stop loss Ti insegna una cosa nuova C'è magari un piccolo dettaglio A cui prestare attenzione Che vai a documentare E poi tieni presente La prossima volta Che ti si presenta Un setup Ovviamente Vai a creare la statistica Però prima di arrivare A creare Quella consapevolezza Dove sai Che a livello statistico Comunque Sai quanto ne prendi In maniera oggettiva Ce ne vuole Ok Quindi proprio per questo Ci vanno a fare Cioè a me piace Fare queste lezioni qua Perché aiutano A crescere molto più velocemente E imparando Dagli sbagli degli altri Puoi correggere il tiro La persona Intelligente Impara Le proprie errori Ma la persona furba Impara dagli errori Degli altri Ok Quindi questo Ti permette di Osservare Prendere appunti E poi Fatto questo Sai che la prossima volta Dato che comunque Abbiamo visto queste cose qui Ti ritrovi in una situazione Dove dici Ah aspetta Però Questa L'ho già vista Questa situazione Non l'ho vissuta io in primis Sulla mia pelle Però ho visto che comunque Se mi ritrovo con una rottura di struttura C'ho direzionalità ribassista Il mercato Mi fa rottura di struttura Mi sbilancia liquidità E provo un long Che sembra molto bello e goloso Lascio stare E così posso evitare Perdite di tempo E di soldi Inutili Ma perché semplicemente Guardate Ho osservato qualcun altro Quindi Questo è Per me La cosa importante Ecco Quindi Anche qua dentro Ovviamente il mercato Dopo una reazione di questo tipo Era da Vedendo la rottura Accorciare E evitare Perché anche qua Insomma Quando un setup è troppo bello e goloso Viene fatto poi soprattutto Quando Sei contro la direzionalità Così ti induce A posizionarti In un determinato modo Perché vogliono loro Ti posizioni così Così la maggior parte delle persone fa E Basta Cioè alla fine questo qua era abbastanza Palese Scontato Ovvio che Quando è così Per te Lo può essere per tantissime Milioni Milioni di altre persone E poi Ovviamente Come lo è per te così Può essere anche uno Stop loss per te Uguale Ok Ora Anche questo Ok abbiamo visto Ora Abbiamo questi qua Tanta liquidità Credo di averse invalidato la mia zona Di short Per questo Ho cercato Un long Quindi tu praticamente Hai visto questa Rottura Rialzista Hai cercato un long Sulla candelina istituzionale Ti ha dato una piccola reazione Già da qua Era da stare attenti Da accorciare Così Tanta liquidità C'è la liquidità Candelina istituzionale Zani interesse Ok Ah qua però hanno fatto Guarda se noti Cos'è che avevamo Avevamo un paio di cose Che lì non mi è entrato il trade E mi è andato anche la prima Ah ok Perché se guardi anche qua Dopo aver fatto questa Di prima rottura Il mercato ha creato Schematica Che per andare giù E poi ha fatto Quest'altra rottura Molto importante Che tra l'altro Tu hai segnato Questo hai fatto benissimo A segnare Però bisogna Ovviamente stare attenti Perché anche Col dollaro Siamo ribassisti Ok Ma Per bene anche E tra l'altro È di oggi questa Sì Euro dollaro Vediamo un secondo Una cosa Questo è Delle 13.30 Vediamo un secondo Andiamo a guardare Un piccolo dettaglio 5 minuti E qua Ok Qua dentro Questa che era la zona All'inizio Cercavo un short Poi vedendo Quell'invalidazione Di setup Mi sono focalizzato Troppo sulla liquidità Ecco Quello ti frega tantissimo C'è la liquidità È una cosa che Ti fa più male Che bene Molte volte Ma dopo che ti ha fatto La rottura Cosa succede Che qui il mercato Dopo che l'aveva fatto Qua dentro Ha completato una schematica Qua c'è una schematica Per bene completata Ok Qua dentro Poi sono andati a fare Cosa Sono andati a fare Un'altra schematica Ok Quindi sono andati a Fare una ridistribuzione Ma perché poi Qui hanno continuato A andare a ribasso Perché comunque Anche nel commento Avevamo accennato Che Con le news Avrebbero sparato A ribasso Perché c'era questo Che adesso Non ho cambiato i dati Questo qua raga Ieri Tra l'altro Vabbè Sempre così Era un doppio minimo Perfetto Ok Su questo livello qua Quindi essendoci Il doppio minimo Perfetto Ovviamente questo Faceva da calamita E guardando anche Nel macro Il prezzo cos'è Che sta facendo Ci ha lasciato Tutto questo livello qui Di Sbilanciamento La liquidità Ok Va lasciato il doppio minimo Qua sotto E dopo aver fatto Una schematica Sono andati a Fare un'altra Schematica Dopo che hanno Sbilanciato anche Tutta la liquidità Hanno fatto in modo Di rigirarsi Per andare Nella direzione opposta Ok Per andare a prendere La liquidità Dall'altra parte E allinearsi Con la stagionalità Ok Quindi Qua Attenzione Quando vediamo anche I cambi dominance Che vengono effettuati Poi E si vedono Comunque Anche su time frame A 5 minuti Ad esempio Ok Perché Se nel macro Sei short E vedi un micro cambio A time frame Magari più basso Non lasciarti ingannare Perché Lo devono fare apposta Così come te Fanno anche tanti altri Si posizionano Allora Essendo cambiata La dominance In basso Questo trade Non lo avrei dovuto Prendere Allora Euro dollar 5 minuti Hai visto la rottura Qua ci stava il test Tu praticamente Hai voluto Riprovare A fare lo stesso trade E entrare Nel stesso modo Ok Ok Allora Un consiglio Che mi sento di dare Qui l'ho scritto Bello in grande Il perché Presto plus Trend rialzista E se poi ovviamente Avevamo una direzione Di tale rialzista Ma oltre a questo Per le prossime volte Vi invito a prestare attenzione A questo piccolo dettaglio Quando il mercato Ti dà la possibilità Di entrare con Rottura e cambio Dominance Test della candela istituzionale Come facciamo di solito È molto difficile Che vada a fare La stessa Identica cosa Successivamente Che vada a rispettare E completare Lo stesso pattern Una seconda volta A livello pratico E per mia esperienza Una volta Bene Ma riprovare Una seconda È molto 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 difficile Quindi tendo A scartarlo E evitare Cose come queste Ok E poi si Giustamente Tutti si è segnato Che sei Di trend rialzista Infatti qua Stavamo Spinta altamente Rialzista Creazione di riquinta Vanno a pulire Tutto questo E poi Giustamente Spingono Ok È da prestare Molta molta attenzione Allora Entri Più aggressivo Sull'imbalance Per evitare Di restare a piedi Ho anche Arrotondato Sull'ottanta Ok Quindi ti ho dato Un temporary Hai provato Un long Su dollaro Stiliano Dollaro Alle quindici Di oggi Allora Facciamo così Tutta sta roba È di oggi Per caso Ma è di ieri Mi sa se Ok Sì È di ieri Tu praticamente Hai voluto provare Un long Su questa zona qua Sul 380 Così Sono in balance Per andare long Ok Ok So che ti ha bucato Cioè ti ha dato Un temporary Su questo livello qua Fai uno stop loss Qua sotto Temporary Che si poteva tornare Break even Ok Poi ti ha bucato E ti ha buttato giù Ecco Allora Anche qua Se guardiamo Attentamente Vi voglio fare Una domanda E basta Stanto una semplice Risposta Di direzionalità Come eravamo In un possibile Primo test Se stai guardando La zona M5 Cercheresti sempre Evidence su M1 In quali casi Non la cercheresti Primo test Se stai guardando La zona M5 Perché c'è sempre Evidence M1 Non sempre cerco Non sempre cerco Evidence M1 Perché se è ben chiara E definita La schematica Anche semplicemente M5 Perché sono a favore Di direzionalità Quindi c'è Mercato che comunque Va a costruire Continuamente In questo modo E vedo che Qui ad esempio C'è una candela Istituzionale Su M5 E mi basta Semplicemente Seguire questo Posso prendere Semplicemente Break E test Così Poi ovvio Se scendo Anche di time frame E vedo che Effettivamente Mi crea Una candela Istituzionale Come si deve C'è tutta la schematica Il cambio della dominance Anche su M1 Più dettagliato E definito Allora da lì Sono Sono più propenso Comunque a Nella maggior parte Di casi A scavare Però se vedo Che comunque È chiara È ben definita Anche M5 Che dici Così Ne basta Allora lo faccio Entro Senza Senza troppi problemi Vedato qua Comunque siamo Molto short Ok Allora di direzionalità Qua abbiamo una direzionalità Altamente short E qui Vedete tutta questa liquidità Formata Che è stata sbilanciata Il prezzo Cos'è che ha combinato È andato a prendere la liquidità Su questo livello Ha dato un tempo La riprofitta Ha creato altra liquidità Ok Anche su questi livelli Che ha sbilanciato Guardando attentamente Se seguiamo la Narrativa Di quello che hanno combinato Anche stando magari Su 5 minuti Facciamo così Da qui Sono partiti Per andare a creare Cosa A creare il massimo Più alto E andando a creare Il massimo Più alto Poi il mercato Qui ha rotto E Almeno a livello Mio personale Non entro mai Su operazioni Di questo tipo Quindi sulle Possibili candele Di demand O supply Più estreme Quello che ricerco E quello che aspetto Principalmente È Semplicemente questo Quando il mercato Inizia a comprimere Se so che magari Sono di direzionalità Rivalsista Aspetto che il mercato Vada a sbilanciare sopra Vada a rompere A ribasso E poi cerco Il mercato Istituzionale Per andare giù Molto molto semplice Non cerco Altre cose Che siano Allì fuori Di questa cosa Di questa schematica qua Infatti io vi consiglio Se non l'avete già fatto Di andare A Guardare Ciao Questo La checklist E poi Anche tutti gli altri Casi studio Che vi ho portato Gratuiti sul canale Se voi guardate Quelli lì Anche Molto molto semplice E più semplici Così non si può E se voi avete La pazienza Necessaria Abbastanza pazienza Ad aspettare Quella schematica lì E di seguirla Allora vi semplificherete Di molto la vita Prenderete Molti meno stop loss Sarete molto più selettivi Con le operazioni Che andrete a prendere In considerazione E questo vi permetterà Di crescere Più velocemente Sarà più lento Il processo Sarà un po' più Una rottura di scatole Perché me ne rendo conto Uno parte Con un conto Magari anche piccolino E vuoi iniziare a costruire Se rischi soltanto L'1% È un po' complicato Puoi andare a capitalizzarsi E ok Ci sta Però alla fine Quello che è Il percorso così lento E tortuoso E comunque Una rottura di scatole È anche quello Che è il migliore Che ti permette Di costruire Poi il carattere necessario La persona necessaria Per gestire poi Sempre il più A livello proprio Di crescita anche personale Se invece Poi subito Ti ritrovi con Conti Magari anche più grossi In mano Lì ti si gonfia tanto l'ego E quello ti fa cadere Quando ti si gonfia Su tanto l'ego Se invece tu riesci a Far crescere tutto il resto A 360 gradi Ovviamente poi sarà più facile E Che tra l'altro Come ho annunciato Anche nelle storie E che poi uscirà Anche il video Che esce un video Su youtube Dove parlo Delle differenze Che ci sono Tra conti prop E cose a cui Bisogna prestare attenzione E conti anche personali Ovviamente il conto prop Cioè è ottimo Per la scalabilità Nel business Scalare molto più velocemente Però ci sono Varie problematiche Che Già voi Molti di voi sanno E che Avranno già provato E stanno ancora Avendo difficoltà E Che però Ovviamente adesso Sto guardando qualcosa Che può Può dare una mano Notevole Su questo processo Ecco E poi tra l'altro Comunque vi consiglio di stare attenti Al video che esce E Perché poi Vi farò un giveaway Dove vi regalo Una prop da 50k Già passata Cosa vuol dire Già passata Che non dovete pensare Alla fase 1 Non dovete pensare Alla fase 2 L'unica cosa Che bisogna andare a fare Semplicemente È Fare in modo Di applicare i concetti Al meglio Delle proprie possibilità E Il video dovrebbe uscire Lunedì prossimo In teoria Ok E E quando uno inizia A applicare i concetti Alla massima possibilità Ovviamente Non c'è limite di tempo Per utilizzare Quel conto lì Quindi il fortunato O la fortunata Semplicemente Avrà il conto Se vede che c'è il trade Che rispetta Tutti i punti Della checklist Tutto quello che vi serve Allora lì può Magari fare un trade E dire Ok Qua posso entrare Perché c'ho questo Quello e quell'altro Perché ho visto tramite esperienza Che vale la pena provare Bene Perfetto Fai Sai che lì non c'è nessuno Che ti corre dietro Non deve aver paura Niente Ovviamente si consiglia Di utilizzarlo Quando ovviamente C'è quel vantaggio statistico Che è veramente Rilevante E importante Ecco Poi ovviamente Può andare bene Come può andare male Però insomma Poi lì sta Sta a voi E E questo può essere Un ottimo modo Per una persona Che poi Ah che sia chiaro Non è che faccio le preferenze Tra le persone Vado a selezionare Soltanto quelli che magari Sono i ragazzi Della community Ma non mi frega Assolutamente niente Prendo uno a caso Facciamo la ruota Della fortuna Giriamo a caso E basta Chi esce Esce Quindi insomma Mi raccomando Perché Poi Vorrò fare anche altre cose Molto interessanti Molto carine Probabilmente qua Dipende tanto da voi Sapete bene Che dipende da voi Da parte dell'interessamento Che c'è E da parte comunque Della Della attività Da parte Di chi mi segue Quindi questo è E niente Comunque raga Un po' di cose Le abbiamo viste Abbiamo visto un paio di cose Che comunque Del valore L'abbiamo portato Che solitamente Queste qua le faccio Soltanto per la community L'abbiamo portato State connessi Stanno per arrivare Tante belle cose Molto molto interessanti A livello di update Che vi faciliteranno E questo l'obiettivo Facilitare la scalabilità Così almeno diventa Più più semplice Ecco questo Perché mi rendo conto Che ce ne sono tante Di difficoltà Che si Si devono affrontare E la gestione emotiva E però ci metto tanto E faccio bene Col conto demo Però Non sono tanto stimolato Oppure faccio bene Col conto real E ma ho fatto veramente poco Ecco Tutte queste cose qua Si cerca di andare A togliere sempre di più Ok In modo da Rendere poi Questo 2024 Quell'anno dove Effettivamente si riesce a Tra virgolette Svoltare Ecco Questo è L'obiettivo E lo auguro a tutti voi Così almeno sia La più Più libertà Ecco E quello è lo scopo finale La libertà Anche se si fa Quelli che potrebbero essere Non so Con quanto vivi Questa è una domanda Che ho fatto Ai ragazzi Ieri Quando eravamo in live Vi siete mai Fatti un conto Magari anche Di chi Ancora vive Con i genitori Di quanto Vi viene a costare Il vostro stile di vita Quanto ti costa A livello di affitto Macchina Cibo Sai Per file per segno Quanto vai a spendere A livello mensile Bene Perfetto Sai che quella È la quantità di soldi Che devi andare a generare Con un'attività online Che sia trading Oppure andare poi A diversificare Con altre varie attività Che può essere E-commerce Dropshipping Non so Automatismo Quello che vi pare piace Ecco E se hai la possibilità Di fare quei soldi Tramite l'online Però comunque tu hai 24 ore a disposizione Durante la giornata Che le dedichi Interamente a te Alla tua crescita Lì vinci Lì sì che sei un vincente E non è altro Che da fare Se non Costruire Andare a progredire Nel business E quello è un big flex Puoi svegliarti Quando ti pare piace Puoi fare quello che vuoi Effettivamente Ovviamente Sempre Circoscritto A La disponibilità economica Che sia Questa è una cosa Molto importante Perché ovviamente Dopo Quando inizi a costruire Arrivi a un certo livello Ovviamente devi andare A superare Vari gradini Vari step Io personalmente In cripto Vi racconto questa Stavo guardando Bitcoin Andiamo a vedere Una zia un bitcoin Andiamo a vedere Una zia un bitcoin Vi racconto questa Io volevo comprare Però ho comprato Soltanto Quando Che l'avevo fatto Anche vedere Gli altri ragazzi Ho comprato Soltanto Quando C'era Su Revolut C'era 15 euro Gli ho detto Vabbè ci metto 15 euro Ho fatto più del 60% Una roba del genere Ma da dove ho comprato Ho comprato A livello dei lì Da qua sotto Perché c'era La schematica solita Quindi C'era Coloro che Andavano a creare L'ultimo minimo Da qua dentro Se guardiamo Ovviamente Vengono superati Con forza A livello dei lì Questo è dei lì Il mercato poi Qui va a creare Tutta questa zona Di liquidità dinamica Qui dentro poi C'è la candela istituzionale Che sbilancia La liquidità Io a livello dei lì Ho detto Il mercato Si trova qua in zona Faccio un acquisto Non frega niente Ci metto di quei 15 euro E me ne sbatte poco E ho lasciato correre Infatti da qui poi Il pattern comunque Per farvi capire Sempre di più L'importanza E l'efficacia Di questa cosa Indipendentemente Dal pair Dallo strumento finanziario O dal time frame Comunque Se si presenta La conformazione adeguata Anche magari Un po' più raramente Va benissimo Alla fine qua Comunque Hanno sparato Adesso stanno facendo Tutta la fase di ritracciamento Spingono per bene Vediamo adesso Se magari Ritornano su Zone come queste Di origine E spinta Rialzista Per dopo Continuare Andare su Però comunque Dopo quello che stanno facendo E stanno costruendo qua Il coin può Spingere E salire Ecco E niente però Insomma Questo è Il creare Un'entrata Che poi ti permette Di vivertela Anche con più tranquillità Anche lì però Bisogna stare attenti Perché è un attimo Che se tu Ok Vai iniziare a generare Soldi dall'online Puoi iniziare ad adagiarti Perché dici Vabbè adesso la prendo così Invece no Devi mantenere sempre La fame Il fuoco dentro Attivo Se no un attimo Inizierà ad adagiarsi Raga E la rovina È sempre dietro l'angolo Quindi Detto questo Io vi auguro Tante belle cose Raga Per questo mese qua Spingete Massimizzate Al massimo Sempre Mi raccomando E Niente adesso Farò editare il video Per così ve lo carico State connessi perché Nelle prossime settimane Poi Cioè settimana prossima Arrò il video Faremo il giveaway E tante altre cose Adesso ci sto lavorando per bene Testando ovviamente Per portarvele Ok Ragazzi È stato un piacere E ci vediamo Alla prossima Non dimenticatevi Di mettere like E di supportare il canale Bye